ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi apriremo una nuova playlist per quanto riguarda nodi, fluorocarbon, tracciati e snap tutto quello che tratta tra il nostro mulinello fino ad arrivare all'artificiale che andremo a lanciare quindi vi invito per chi non l'avesse ancora fatto ad iscriversi al canale e niente oggi parleremo del nodo all grind a dopo ok ragazzi per fare questo nodo questo famosissimo all bright abbiamo bisogno ovviamente di un è un nodo di giunzione tra il trecciato e tra il fluorocarbon o nylon quello che andremo ad utilizzare noi quello che più ci piace per prima cosa dobbiamo fare eseguire un cerchio eccolo qua quindi in questo modo seconda cosa prendiamo il nostro trecciato e lo facciamo passare all'interno del cerchio che abbiamo realizzato eccolo qua tutto verso sinistra in questo caso teniamo bene i capi io cosa faccio faccio ruotare poco poco il trecciato quello che ce n'è bisogno per fare dieci giri almeno ovviamente e lo faccio tornare un attimino indietro senza farlo ripassare all'interno dopo di che cosa faccio e in questo modo gli faccio fare dieci giri come ho appena detto quindi tengo tutto ed è uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci giri alla fine riprendo il trecciato e lo faccio ripassare all'interno della prima asola che abbiamo creato con il nylon ok tengo i due capi del trecciato con la mano destra e due capi del nylon con la mano sinistra piano piano vado a tirare il trecciato ok si sistema il nylon guardate qua lo avvicino un pochettino spero si veda bene eccolo qua tiriamo tutto insieme prima di serrare del tutto ovviamente va bagnato e quindi vado a chiudere solo tenendo le due estremità del filo lasciando i due capi diciamo le due eccedenze libere e vado a serrare un pochettino di più questo è il nodo eccolo qua che abbiamo creato e possiamo togliere le eccedenze una cosa importante se diciamo non è le eccedenze non passano attraverso questo è gli anelli della canna e allora si possono lasciare un pochettino più lunghe perché questo? perché questo nodo si può assestare un pochettino no? con la trazione con i lanci eccetera eccetera quindi vado a togliere scusate se non taglia benissimo e l'eccedenza del nylon anche qua vi faccio vedere subito ho lasciato 2-3 mm vedete? perché tanto come lo uso io io questo nodo lo utilizzo ad egging e come lo utilizzo io non va mai a passare il primo anello della canna rimane sempre fuori automaticamente non mi darà fastidio nel lancio in più se becchiamo un polpo di taglia oppure andiamo ad incagliare per un attimino questo nodo durante questa trazione sott'acqua essendo completamente bagnato si andrà a serrare un pochettino di più sempre un po' di più vi faccio rivedere un attimino il nodo se volete lo possiamo rifare quindi cosa ho fatto prima io ho preso il fluor carbon faccio un cerchio eccolo qua non serve a farlo grandissimo però diciamo è più comodo perché soprattutto quando siamo magari a mare, in spiaggia, in scogliera dipende da dove stiamo pescando se peschiamo a spinning eccetera eccetera e per una comodità nostra per farlo in modo veloce se casomai abbiamo rotto, incagliato o una preda enorme ce l'ha portato via eccetera eccetera occorre farlo farlo subito no? quindi dobbiamo avere la pazienza un attimino per rifare tutto e gli facciamo i soliti dieci giri quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci effettuati i nostri dieci giri andiamo a ripassare il trecciato all'interno della nostra asola e andiamo a tirare il tutto quindi prendiamo i due capi del fluorcarbon e i due capi del trecciato e andiamo a serrare il nostro nodo mi raccomando quando serrate il nodo io l'ho mollato un attimino solo per farvi vedere le spire devono essere precise ok? non so se da qua la messa a fuoco continua spero di sì non si devono sovrapporre le spire dopodiché tiriamo un pochettino si eliminano le eccedenze lasciando ovviamente qualche millimetro in più come abbiamo detto prima e il nostro nodo è fatto nodo semplicissimo veloce lo potete rifare in pesca e niente io lo uso tantissimo soprattutto ad egging per me questo è un nodo molto veloce perché capita spesso che uno incaglia magari oppure c'è qualche polpo che non ne vuole sapere che rimanere intanato automaticamente quando rompo tutto stacco eccetera eccetera io realizzo questo nodo e ritorno subito in pesca ok bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto sono dei video velocissimi però ci sono alcuni noti che magari tanti di noi non sanno ancora fare e si trovano in difficoltà quando siamo in pesca perché molti spesso chiedono al negoziante dove vanno a comprare gli artificiali le canne da pesca mulinelli eccetera eccetera di fare di montare tutto l'oro fare immobbinare il mulinello fare i nodi montare gli snap fare lo shock leader eccetera eccetera è importante saperlo fare perché poi quando siamo in pesca non c'è il negoziante con noi il negoziante ci può consigliare cosa comprare in base a dove andiamo a pescare al tipo di tecnica che andremo a fare però non è con noi durante la pescata quindi i nodi la grandezza del lamo eccetera eccetera oltre che ci facciamo consigliare è bene saperli fare io vi invito a continuare ad iscrivervi al canale come state facendo e ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao a tutti